Grazie per la bella introduzione. Io sono Danilo e mi occupo su base quotidiana di sviluppo WordPress, in particolare di sviluppo server-side e sviluppo mobile. In questo talk questa mattina andiamo a vedere quali sono le possibilità offerte da WordPress per quanto riguarda WordPress e PHP per quanto riguarda l'ottimizzazione del codice ed aumentare un po' le performance dell'esecuzione del nostro CMS preferito. In particolare possiamo vedere che con WordPress abbiamo la possibilità di avere diversi livelli di ottimizzazione. Il primo livello che ci troviamo ad avere è quello a livello di PHP e quindi effettuare un caching di codice PHP. Poi c'è un ulteriore livello di caching a livello di WordPress che è sia a livello di funzioni di WordPress che a livello di pagina intera. Infine andremo a vedere un po' cosa significa eseguire del codice WordPress in maniera differita, ovvero eseguirlo non nel momento di renderizzazione della pagina a fronte di una richiesta di un utente ma di eseguirlo successivamente quando a noi resta più comodo. Iniziamo quindi con il primo tipo di caching e iniziamo a vedere un po' come è organizzato un server e i vari livelli di software che noi ci troviamo ad utilizzare tutti i giorni. In particolare vediamo che c'è il sistema operativo, sotto il sistema operativo c'è il server e poi c'è la rete. Questa è la normale componentistica che ci troviamo ad avere su un server. Sopra il sistema operativo abbiamo il nostro stack tecnologico che a questo punto è il protocollo HTTP, PHP e MySQL per la maggior parte delle installazioni. Sopra questo ulteriore livello si trova WordPress, quindi WordPress che utilizza, sono dei file PHP, utilizza MySQL come database e il protocollo HTTP per comunicare con l'utente. A questo punto andiamo a vedere come ottimizzare l'esecuzione del codice all'interno di questi livelli che in particolare il primo livello è quello di WordPress e di come abbiamo installato le differenti componentistiche software. Andiamo a vedere il database. Innanzitutto conviene usare InnoDB come motore per le tabelle, a meno che non avete una ragione per non farlo, però oggi è già da tantissimo tempo che InnoDB è performante e potete usarlo tranquillamente. Tra l'altro è anche quello di default di WordPress. Abilitare poi il log delle query lente, quindi voi anche in produzione andate a vedere quali sono le query che sono più lente, che impiegano più tempo e poi su queste query andare ad eseguire un explain, ovvero andare a capire perché queste query sono lente. La maggior parte delle volte perché gli indici magari sono sbagliati, gli indici sulle tabelle non sono ottimizzati e quindi queste query sono lenti e vanno poi ad inficiare tutta l'esecuzione del vostro WordPress. Naturalmente qui sto parlando di tabelle scritte da voi, non le tabelle di default di WordPress perché già sono ottimizzate a monte, ma se voi scrivete un plugin che introduce una nuova tabella, mi raccomando utilizzate sempre il log delle query e andate a vedere poi perché sono lente ottimizzando gli indici. A questo punto cambiamo di livello. Finora abbiamo visto una semplice introduzione sui colli di bottiglia del database, ma andiamo a vedere un po' cosa possiamo fare a livello di PHP. Allora, cosa succede? Il vostro utente apre il browser, inserisce l'indirizzo della vostra pagina web e effettua una richiesta. A questo punto viene contattato il vostro server, il web server prende in carico la richiesta e da un certo punto chiamerà PHP. PHP che cosa sono WordPress? Sono dei file scritti in PHP che vengono letti dalle interpreti di PHP, convertiti, parzializzati, si fa l'analisi lessicale del codice e via dicendo, alla fine si fa il file, il listato PHP viene convertito in bytecode e questo bytecode viene eseguito dall'interprete. Tutto ciò avviene ogni volta che c'è una richiesta sui vostri file. Allora si è pensato, ma non è possibile ottimizzare questo scrivendo in qualche parte, in maggior parte delle volte in memoria, direttamente il bytecode e riutilizzarlo? Sì, questo è possibile, infatti PHP permette attraverso il caching di bytecode di ottimizzare questa fase. Quindi alla vostra prima richiesta viene creato il bytecode del file PHP e alle richieste successive questo bytecode viene interpretato nuovamente dall'interprete dell'eseguito e quindi ci ritroviamo ad avere un bytecode che è già stato precaricato in memoria e tutta la fase di parsing e di creazione del bytecode viene saltata. Già questo è un piccolo aumento di performance. Questa è una richiesta classica, c'è la lettura del file, la parzializzazione, la compilazione, l'esecuzione e alla fine l'output. Nel caso in cui dovessimo mettere un caching a livello di bytecode, tutte le prime tre parti, lettura, parzializzazione e compilazione in bytecode, vengono eseguite una sola volta e successivamente vengono saltate. Questo tipo di cache naturalmente ha bisogno di alcuni settaggi a livello di PHP ma ormai dalle ultime versioni di PHP l'opcode caching è già abilitato all'interno, bisogna solo attivarlo a livello di PHP, mentre in precedenza si utilizzavano quegli acceleratori come APC ma tuttora si utilizzano, magari se avete una versione un po' più datata di PHP. E già questa semplice ottimizzazione c'è un incremento di prestazioni che è di circa 4 volte la normale esecuzione, quindi se prima voi riuscivate ad eseguire 10 richieste contemporaneamente, effettuando questo tipo di ottimizzazione riuscite a fornire 40 richieste contemporanee. E questo a livello di PHP. Ora trasferiamoci ad un livello ancora più alto, in questo caso siamo dentro WordPress. WordPress cosa fa? Voi avete le vostre funzioni e supponiamo che ad un certo punto nel vostro plugin si andate ad effettuare una query che impiega un po' di tempo. Questa query che cosa succede? Viene eseguita ogni volta c'è una richiesta a livello di WordPress. Quindi voi contattate il database, il database fa la query e ritorna ai risultati. WordPress fortunatamente fornisce al suo interno già un modo per salvare questi risultati e riutilizzarli successivamente. Quindi che succede? Che se voi vi trovate ad avere 10 richieste contemporanea alla stessa pagina, la query viene eseguita una sola volta e le nove restanti richieste utilizzeranno i valori che sono stati letti dal database alla prima richiesta. WordPress già di suo mette a disposizione le funzioni per effettuare il caching. Naturalmente voi dovete installare qualcosa sul server per fornire questo supporto dove andare a memorizzare questi valori. In particolare con WordPress ci sono i transients che sono semplicemente delle funzioni che ti permettono di scrivere in memoria qualcosa che sia un array, un valore. In particolare se voi non installate il niente all'interno del vostro ambiente, quindi avete solo PHP e MySQL senza nessun motore che vedremo successivamente, questo viene scritto all'interno del database, all'interno delle option table. A quel punto è già questo un piccolo aumento di performance perché partiamo dall'idea che se io ho una query che per essere eseguita impiega tre secondi, io le eseguo una volta, tre secondi vengono impiegati per l'esecuzione della query, scrivo il valore con le transients all'interno del database nella tabella option con una chiave, quella chiave naturalmente sarà anche l'indice, quindi nelle successive richieste per prendere quel valore io ci vado direttamente con quella chiave e la lettura è quasi in tempo istantaneo, non impiego più tre secondi ma mi porto già in memoria i valori precedentemente scritti. Con l'introduzione dei transients, WordPress quindi ci permette di effettuare questo tipo di salvataggio temporaneo in memoria. Con i transients poi noi andiamo a specificare anche un tempo per cui questi sono validi, quindi quando è passato quel tempo i transients non saranno più validi. C'è poi un altro tipo di caching sempre che WordPress mette a disposizione che è l'object cache. Sono delle altre funzioni che sono molto semplici da usare e sono più o meno come i transient. Se voi siete in dubbio su quale usare, è consigliabile usare i transient perché i transient nel momento in cui nella vostra installazione avete un motore di caching che andremo ad illustrare successivamente, automaticamente passano ad usare l'object cache di WordPress. Quindi quelle chiamate dei transient che sono semplicemente delle set e delle get andranno ad utilizzare queste altre funzioni che sono dei cache aggiungi, imposta e prendi. Quindi in maniera automatica, trasparente, WordPress utilizzando i transient va a fare l'object cache. Se poi voi siete sicuri che nella vostra installazione avete un motore di caching potete addirittura chiamare direttamente le funzioni di caching di WordPress e quindi andare a scriverli dentro quello che voi meglio credete. Cosa succede però? Che WordPress mette a disposizione queste funzioni che sono una specie di roper, però i valori che queste funzioni andranno a scrivere da qualche parte dovranno essere scritti. Ed entra qui in gioco un altro server. In questo caso anche altri plugins. Dipende poi dal tipo di ambiente software che voi avete che dovete scegliere anche il plugin più opportuno. Per esempio se io decido di installare come server di back-end che tiene in memoria questi valori di caching un server memcached daemon, a questo punto utilizzerò botretto dal cache oppure memcached come plugin. Se io ho APC installato nella mia installazione vado ad utilizzare quest'altro tipo di plugin. plugin. Lo stesso se io dovessi avere Redis vado ad utilizzare il plugin di Redis perché è quello che mi permette di scrivere questi valori all'interno della mia installazione di Redis. Nelle vecchie versioni di WordPress c'era anche il caching su file. Che cosa succedeva? Semplicemente che WordPress andava a scrivere all'interno di un file i valori che noi passavamo a queste funzioni. Diciamo che è meglio non utilizzare questo tipo di approccio per il caching ed andare a scrivere cose su disco perché l'accesso al disco potrebbe essere lento, il file system potrebbe essere distribuito fra diversi hosting e soprattutto se avete un ambiente distribuito su diversi data center la cache poi è singola su ogni server. Quindi se voi già avete due server, in questo caso il file system è all'interno di un solo server, a meno che non è distribuito e quindi vi troverete ad avere due valori di cache diversi per i diversi server. Andiamo a vedere qual è quello più utilizzato al momento di server che permette di effettuare il caching. Si chiama mcachedemon. È open source, è possibile installarlo, è molto facile da usare, quindi voi potete avere il vostro primo livello di web server e successivamente avere dietro diverse installazioni di memcached. In questo caso queste installazioni andranno a comunicare con PHP e a scrivere in memoria, a tenere quei valori che noi a livello di WordPress gli diciamo di effettuare il caching. Semplicemente che cosa fa? è come se fosse una grande tabella che ad una determinata chiave corrisponde un valore. Quindi voi come WordPress andate a scrivere chiave e valore all'interno di quest'altro sistema e successivamente lo possiamo andare a riprendere. Questo è l'indirizzo dove si trova tutto il software. Naturalmente se avete un hosting condiviso magari non vi faranno installare questo tipo di software, però se avete accesso alla macchina potete anche tirare su un'istanza sola di questo memcachedemon e all'interno addirittura della stessa macchina dove gira il web server quindi non c'è bisogno di configurazioni esoteriche per già vedere dei miglioramenti. Anche con macchine semplici si può vedere come WordPress scala molto bene utilizzando la cache. Questo tipo di cache di WordPress se voi andate ad aprire i file nativi del CMS vedete che viene usata molto soprattutto quando andate a caricare gli utenti. Magari nelle regioni delle richieste delle pagine quando vengono mostrati i post e i nomi degli utenti che hanno creato quel post. WordPress automaticamente effettua la cache degli utenti e dei dettagli degli utenti. Quindi nelle successive chiamate, se voi avete un motore di caching installato, tutte quelle informazioni ce le troviamo già in memoria, ma perché i sviluppatori di WordPress nelle funzioni predefinite hanno utilizzato la cache. Quindi basta abilitarla e già iniziamo a vedere un miglioramento delle performance. Se poi come ho detto prima voi avete il vostro plugin che effettua delle query oppure, supponiamo che il vostro plugin per qualche motivo deve chiamare un altro servizio esterno tramite una chiamata HTTP GET. Questa chiamata HTTP GET impiega 5 secondi per essere eseguita e a questo punto voi cosa potete fare? Effettuare questa chiamata HTTP GET alla prima esecuzione della pagina, prendere il valore, salvarlo nella cache e riutilizzarlo successivamente. E questo viene da sé che avendo un motore di cache si hanno delle performance soprattutto quando interrogate servizi esterni o avete qui di complesse un aumento di performance veramente notevole. Ed è qui che memcache daemon entra in gioco. Si va ad inserire tra PHP, Masiq e WordPress ed è uno strato intermedio di accesso ai dati. Questo tiene tutto in memoria, quindi se voi riavviate il vostro server memcache succede che i dati che avete scritto in precedenza vengono persi. Quindi tutto questo che significa che voi quando scrivete il vostro codice ogni volta che andate a controllare se un valore di cache è presente o meno dovete stare attenti perché quel valore potrebbe non essere presente anche se è sicuro che voi l'avete scritto due righe in precedenza e due righe sotto le ho riutilizzate. No, va sempre controllato che la cache sia presente perché l'istanza di memcached potrebbe essere in crisi, potrebbe non aver scritto il valore in cache e anche successivamente voi quando andate a leggere vi ritorna un valore che è nullo. Quindi controllate sempre la cache. E questo qui diciamo è cosa avviene quando c'è una chiamata a livello di PHP con Wordpress e abbiamo il motore di caching all'interno. Questo motore di caching come già detto diverse volte e lavora per conto suo può essere utilizzato anche per un'altra funzionalità che delle volte anche molto interessante. Finora abbiamo visto che viene usato per scrivere dei valori, io ho dei valori che voglio scrivere, glieli butto dentro, lui e poi me li ridà quando io gli chiedo. Ma non posso usarlo anche per fare un caching della pagina completa. In questo caso per esempio se io ho un sito dove gli utenti non sono loggati e visitano moltissime volte le pagine per dire l'home page oppure la pagina dei contatti oppure che sia anche dei singoli articoli ma gli utenti non sono loggati, tutti questi utenti vedranno sempre la stessa pagina. Allora perché andare a chiamare Wordpress, effettuare tutto il giro classico? è possibile installare un plugin che in questo caso io ne ho elencati tre, bad cache, super cache e total cache, che mi permettono di fare il caching della pagina. Questi funzionano la maggior parte solo per gli utenti che non sono loggati. Che cosa fanno? Alla prima richiesta bad cache si legge il file PHP, lo esegue, il risultato lo scrive all'interno della cache. Alla seconda richiesta se l'utente non è loggato rispetto a determinati parametri, bad cache intercetta la richiesta, si legge la pagina intera dalla cache e la ritira fuori così come era stata creata in precedenza e la fornisce all'utente. Questo tipo di caching che viene chiamato caching della pagina intera permette di aumentare le prestazioni in maniera considerevole poi vi farò vedere dei dati su una semplice istanza e vi consiglio di usarlo. C'è da dire però che questo tipo di cache può essere usato solamente sugli utenti che non sono loggati perché altrimenti un utente quando è loggato potrebbe avere delle personalizzazioni per cui ogni pagina è diversa. E cosa fa questo plugin che in questo caso è bad cache? Utilizza memcache, l'altro server di cui ho parlato in precedenza, per scrivere i valori e rilegge ogni volta la pagina da quel server e la ritira fuori saltando completamente tutta quella parte di accesso al database, parzializzazione dei file via discorrendo e l'esecuzione delle funzioni interne di Wordpress. Questo mi permette di aumentare naturalmente le performance e avendo dei buoni settaggi riesco anche a fornire diverse pagine per i diversi browser. Per esempio io imposto bad cache che tutti gli utenti Microsoft la cache viene effettuata separatamente e diversamente dagli utenti che stanno per esempio su Safari perché io so a priori che con il mio plugin, con la mia installazione, gli utenti di Microsoft io gli fornisco un sito diverso rispetto a quello che vedono gli utenti che usano Safari. Quindi quando andrò a effettuare la cache della pagina devo impostare bad cache per effettuare due cache differenti. Quindi diciamo che è un attimo da personalizzare come plugin. Possono avvenire dei comportamenti diciamo anomali se il vostro sito si comporta diversamente in base allo user agent o in base ad altri parametri della richiesta. Faccio un esempio, se io ho una funzione all'interno del mio sito WordPress che a seconda dell'ora della richiesta cambia il background della pagina, io affetto la richiesta a mezzogiorno, lui affetto la cache della pagina a mezzogiorno, se la richiesta viene effettuata per dire a mezzogiorno è 5 e il background cambia perché a mezzogiorno è 5 io ho specificato che il background doveva essere diverso, ma cosa succede? Che la cache mi fornisce indietro la pagina con il background precedente. Quindi anche qui bisogna stare attenti su come impostiamo bad cache, su quanto deve durare la cache, su quale pagina effettuare la cache perché con bad cache è possibile anche andare a specificare determinati valori per cui la cache viene effettuata diversamente. Quindi è un po' da configurare, non c'è diciamo una formula generica per cui è possibile usarlo, ma bisogna insomma andarsi a calare nel progetto che state andando ad ottimizzare. E naturalmente anche cose tipo che andate a leggere il cookie oppure andate a leggere lo user agent per fornire risposte diverse per la pagina non è possibile effettuarlo. In questo caso dovete fare due cache diverse a seconda dello user agent che è stato fornito nella richiesta. E questo diciamo un po' quello che mette a disposizione PHP e WordPress senza andare a scomodare altri server, quale sia varnish o quale sia un ottimizzatore di richiesta HTTP. Qui ho buttato giù alcuni esempi di un'installazione molto semplice, molto vuota, quindi diciamo che lasciano il tempo che trovano come numeri. Però già questi numeri possono farvi vedere come WordPress può essere ottimizzato. In questo caso la prima riga è un PHP semplice, WordPress installato, classica selezione PHP MySQL Apache e con 10 richieste concorrenti. Ho impostato 10 richieste concorrenti ripetute per 100 volte. Alla fine questa è la media di richieste che il mio server riusciva a fornire contemporaneamente, quindi nemmeno una richiesta al secondo. Successivamente ho abilitato il caching del bytecode attraverso opcode che è già fornito in PHP. Cambia una direttiva di PHP e questo inizia già a funzionare. E già qui vediamo che c'è un aumento delle performance. Naturalmente questo era un sito quasi bianco, quindi questi numeri lasciano il tempo che trovano per quello. Poi dipende molto dall'estillazione che fate, da come è distribuito il server, l'hardware, sia geograficamente che a livello di software all'interno dello stesso. Però già abbiamo visto che con il caching del bytecode c'è un incremento delle performance. Andiamo ad installare quindi un object caching a livello di wordpress. Qui in questo caso c'era il plugin memcached object cache più un memcache server, con l'altro software installato sulla stessa macchina. Andiamo a vedere che già riusciamo ad arrivare a 7 richieste al secondo in contemporanea. Andiamo ad aggiungere ancora con il page caching, ovvero l'ultimo concetto che ho trattato. E qui l'ho provato con diversi tipi di plugins. V3 total cache su memcache, V3 total cache su disco, e qui i valori sono quasi identici. e poi abbiamo bad cache e memcache server. E qui è dove c'è stata la performance maggiore. Questo tipo di caching system è quello che vi consiglio perché vi permette di scalare su istanze diverse di server di memcache e quindi potete avere due web server e tre, quattro server memcache dietro a questi. riuscite a spegnerne uno e tutto continua a funzionare perché memcache scala bene e eventualmente potete anche effettuare caching distribuito su diverse location sparse sul territorio. E diciamo che fino a qui abbiamo visto quello che Wordpress permette di effettuare a livello di caching. Caching di bad code, di PHP, caching delle funzionalità di Wordpress caching di pagina e sono abbastanza semplici da utilizzare. Adesso andiamo a vedere un altro concetto che cosa succede? Che ogni volta che un file PHP viene chiamato il processo legge il file, esegue la richiesta, esegue quello che c'è scritto all'interno del file PHP e fornisce la risposta all'utente. E questo avviene per ogni pagina che noi andiamo ad eseguire. ci sono però delle volte che quello che a me quello che ha scritto nel file PHP alcune chiamate, alcune funzioni non servono per renderizzare la pagina non servono all'utente finale per vedere qualcosa sullo schermo. Quindi diciamo che se io ho dei task comunque delle chiamate di PHP, di database che non servono a creare la pagina ma mi servono perché devo scrivere della roba sul database per essere usata successivamente questi possono essere demandati a dei task successivi. Vi faccio un esempio. Io ho il mio server ho dei commenti aperti qualcuno inserisce un commento all'interno di un mio post. Cosa succede? Che WordPress inserisce il commento e poi ad un certo punto io perché ho un dispositivo mobile ho l'applicazione WordPress devo ricevere la notifica push. In tutto questo WordPress cosa deve fare? Deve inserire che l'informazione che qualcuno ha lasciato un commento all'interno del mio sito per questa pagina ha scritto questa cosa in un'altra tabella. Deve contattare il server delle push notification e deve inviare questi dati per i device che io ho registrato all'interno del mio sito che io utilizzo per gestire WordPress. ma tutte queste informazioni all'utente che ha inserito il commento non interessano quindi tutto questo tipo di potenza computazionale e quindi tempo impiegato per scrivere nel database la push notification contattare Google o Apple o i server Windows per inviare la push notification all'utente che ha inviato il commento non interessano. Ed è qui che entrano in gioco i task oppure i job differiti di WordPress. Ovvero io nell'esecuzione del file PHP vado a scrivere altrove un task un oggetto dentro questo oggetto ci sono le informazioni che io voglio riutilizzare successivamente e quindi WordPress cosa fa? Scrive all'interno di questa tabella di questo sistema il task e continua con l'esecuzione della pagina e viene renderizzato la risposta che nel caso dell'esempio che ha inserito il commento è in fase di moderazione da parte dell'autore del sito. Quindi questo è un po' quello che fa l'utente scrive su WordPress scrive nel job system e WordPress immediatamente passa alla fase di renderizzazione del contenuto e poi fornisce la risposta all'utente. Il job system in questo caso ci sono diverse implementazioni che voi potete trovare in giro in particolare in questo caso io sto parlando del job system che voi trovate a questo indirizzo che è quello che viene anche utilizzato da wordpress.com e è praticamente basato anche questo su PHP e MySQL e voi lo mettete in esecuzione dopo che l'avete installato avete configurato WordPress per comunicare con il job system e succede che ogni volta che voi andate a scrivere un job dentro questo nuovo sistema WordPress andrà a chiamare il job system scrive questo blob di informazioni e continua la sua esecuzione. Il job system successivamente che è scritto in PHP e lo stesso ha dei demoni che girano dei processi sempre in esecuzione prendono quello che è scritto all'interno del job eseguono la diciamo la richiesta ed elaborano quello che è il codice del job. In questo caso per esempio facciamo un esempio della push notification cosa avviene? Che viene caricato il job system carica il job dal database controlla che lo user ID sia anche l'autore del post controlla che l'autore del post abbia un device registrato controlla le sue preferenze di notifica della push notification controlla il tipo di device e poi va a chiamare il server remoto per inviare la notifica. Tutte queste attività diciamo che sono superfle per essere eseguite nel momento di renderizzazione della pagina possono essere differite e in questo caso noi l'abbiamo fatto utilizzando il job system che ho illustrato precedentemente che è anche disponibile qui sul track di wordpress quello ufficiale è un po' complicato da installare però diciamo che una volta installato riesce a darvi delle ottime prestazioni soprattutto per quello che riguarda tutti quei task che voi non volete eseguire al momento di elaborazione della richiesta. ci ne sono anche altre implementazioni che magari sono un po' più semplici da installare un po' più semplici da usare però sono diciamo sono anche implementazioni più semplici di quello che è ufficiale proposto da wordpress. Queste due diciamo potete vederle ma non offrono diciamo la libertà di installazione che vi offre questo anche se è più complesso da installare. Diciamo che con l'esecuzione definita del codice abbiamo visto tutto un insieme di cose che possono essere utili per aumentare le vostre performance di wordpress con poche semplici attività di installazione sui vostri server. e poi ecco questo è tutto. lo so che siamo a ridotto del pranzo ma abbiamo dieci minuti per le domande. Volevo chiedere la differenza qual è se è più efficace una chiamata a sincrona utilizzando un job system oppure con Agile con Agile Allora diciamo che sono due concetti un po' diversi perché la chiamata Ajax diciamo che viene effettuata poi successivamente dal client verso il server e il server viene comunque impegnato ad eseguire quella chiamata quella chiamata Ajax arriverà al tuo web server che a meno che tu non la vai viene eseguita sul web server quindi andrai ad occupare delle risorse del web server. l'utilizzo di un job system invece è diverso perché tu potresti avere un'altra macchina che esegue quello che va a leggere da un altro database eventualmente i dati che tu avevi scritto e volevi eseguire successivamente quindi è proprio disaccoppiare l'esecuzione. Nulla di vieta di fare una chiamata Ajax successivamente che però va all'inizio sul tuo web server e immediatamente scrive un nuovo job però comunque tu avresti lo stesso due chiamate verso il web server e poi quindi ti conviene inserirlo nella prima chiamata perché poi inserire un job all'interno della tabella è veramente facile perché le tabelle dei job sono tabelle sequenziali praticamente senza indice o comunque con l'indice ottimizzato che ci sono scritture e letture sequenziali da quella tabella quindi andare a scrivere su quella tabella ti occupa veramente pochissimo tempo. Se io lato server uso una libreria e quando mi arriva una richiesta invio dei CSS in base al dispositivo che mi sta facendo la richiesta facendo la cache della pagina cosa succede? allora io ho affrontato questo problema per quanto riguarda la pagina di wordpress.org per scaricare le applicazioni mobile se io visito la pagina da un file da un dispositivo Android voglio vedere il link al Google Store se io visito una pagina dal dispositivo iOS voglio vedere il link all'Apple Store e lo stesso la pagina veniva personalizzata c'era un'immagine diversa lo sfondo era diverso e quindi diversi CSS per per creare la pagina è possibile utilizzare le funzioni di personalizzazione nel nel caso che ho effettuato io era bad cache come caching di pagina dove te vai a creare dei gruppi e all'escrivi del codice per cui dici che quando arriva questo tipo di user agent lo scrivi in questo gruppo quando arriva questo tipo di user agent lo scrivi in quest'altro gruppo puoi anche utilizzare all'interno del codice della pagina all'interno del codice di personalizzazione di bad cache l'id della pagina addirittura quindi se tu sai che quella pagina ha questo titolo oppure questo id andare a effettuare il caching selettivo solo di quella pagina quindi tutto il tuo sito verrà cacheato in maniera indifferente per i dispositivi però quella pagina tu la puoi cacheare come vuoi diciamo che con bad cache il livello di personalizzazione è estremo e è anche abbastanza facile poi te cambi un file PHP e effetti una richiesta e già vedi cosa sta succedendo insomma quindi è possibile farlo quindi è possibile farlo ultimissima questa è la domanda dell'odio perché mi hanno parecchio di mangiare ma ci puoi senti per il tuning di MySQL esistono un sacco di strumenti No? MySQL, Tune, Tune eccetera e per il tuning di MySQL conosci qualcosa e qualcosa da suggerire o si installa via? Diciamo che nelle migliori delle ipotesi si installa via però poi devi andarlo a personalizzare in base ai tuoi server quindi quello che ti consiglio è cercare online effettuare diverse richieste diverse ricerche perché online io ho trovato buone informazioni di casi reali e quindi tu già inizi a vedere cosa cambiare cosa non cambiare e poi devi effettuare delle prove mettendo sotto carico il tuo server io lì l'ho fatto con dieci richieste concorrenti un test veramente semplice ma non ho voluto creare situazioni diverse perché poi molto dipende dal sistema operativo dalla dalla topologia della rete dal tipo di database e comunque se tu trovi online trovi tutte le informazioni per esempio cosa ho trovato io che non è il mio caso perché noi abbiamo un'architettura completamente distribuita però se tu hai memcache sulla stessa macchina dove c'è il server php non c'è nemmeno bisogno di andare a chiamare lo stack di rete tu puoi far comunicare php e memcache attraverso dei socket unix per esempio in questo caso tutto l'overhead della rete viene tolto via vai a limare un po' di prestazioni però ecco anche lì dipende sempre dalla macchina che hai l'unica cosa che ti posso dire è che devi fare le prove sbattendoci diciamo la faccia e tanto tempo per esempio per esempio per esempio per esempio